Nata a Sulmona, ha vissuto l'infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma durante l'adolescenza. Già quando era studentessa del liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, si appassionò al pattinaggio artistico a rotelle. Con la squadra della Skating Folgore Roma, vince il campionato italiano assoluto nella classifica di società. Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, ma i genitori in particolare il padre generale sono poco favorevoli alle aspirazioni artistiche della giovane Millie, così da indurla ad iscriversi alla facoltà di architettura. Millie non si sentirà mai portata per quegli studi. Chi abbandona senza rimpianti avendo convinto i genitori delle sue velleità, inizia la carriera presso l'emittente televisiva GBR, dove appariva in ruoli di presentatrice. Insieme ad altre giovanissime debutanti, quali Mimma Nocelli, Stefania Mecchia e Viviana Antonini. Tutte in seguito approdate con Alterne Fortune e la RAI o a Mediaset.